Alla settima posizione, i corn Al numero 6, Toxic di Britney Spears Abbiamo deciso di portare Limp Bizkit E non una qualsiasi del Limp Bizkit ma Hot Dog penso Esatto, Hot Dog La seconda traccia della Sì, ascoltavi solo Dream Theater E non riuscivi più ad apprezzare i Green Day, i Red Bull Chili Peppers Era tutta monnetta Era tutto... perché devo ascoltare quella roba? Era tutto insipido Buonanotte e buone botte A questo punto noi abbiamo fatto la bellezza di una dozzina di puntate Esatto Quindi siamo alla puntata numero 12 Ma voi, quando avevate 12 anni, cosa ascoltavate? Le stesse cose? Quando avevo 12 anni O, se vogliamo rendere le cose più interessanti Se voi ascoltaste la libreria musicale di voi stessi 12 anni Che cosa vi direste? Bravo, continua così Eri già così indirizzato? No, ma ovviamente sono cambiate le cose che ascoltavo rispetto a quando avevo quell'età Però Secondo me ho ascoltato cose Interessanti Beh, anche io mi direi che tutto sommato non ero messo male Oppure sono messo male ancora, ecco Cioè non è musica che mi vergognerei di ascoltare oggi Perché avevo già abbandonato gli 8-8-3 per fortuna E ascoltavo rock, musica che girava per MTV quella volta Quindi tendenzialmente buona Sì esatto, tendenzialmente buona Perché comunque anche lì abbiamo avuto una grossa fortuna Che MTV ci spingeva addosso delle cose piuttosto valide Cioè era, mi pare MTV che ogni estate cambiava città Montava un palco in una città diversa Ah, RTL RTL, sì non so No aspetta, RTL è una radio No, TRL TRL, bravo Che sarebbe Total Request Live Ah, tradotto in italiano Richiesta totale dal vivo Ah sì esatto, esatto Sì sì sì, giusto Noi infatti la cosa figa era che cambiavano palco Non so con che frequenza Però una volta erano a Firenze Una volta erano a Bologna Una volta erano, capito, in giro per l'Italia E c'erano anche ospiti comunque internazionali Esatto Venevano i Blink o i Green Bay Esatto E c'era un palco montato C'era un palco montato e suonavano Cioè incredibile sta cosa oggi Tra l'altro mi ricordo un episodio assurdo Che troverete su YouTube al 100% Nella quale c'è come ospite Niente po' di meno che Dave Grohl Wow Ok E sul palco però suonavano Non vorrei sbagliarmi Però i Finlay mi sembra Se non erano i Finlay Era una band di ragazzi italiani Lo ricordo E praticamente finiscono di suonare Staccano su Dave Grohl Con la presentatrice E lui tipo fa Ma fanno schifo Davvero? Sì però era live no? Devastante per la band Sentirsi dire da uno che comunque non è Da Dave Grohl Da uno che voglio dire ne sa E se lo dice lui Voglio dire che sia un'opinione piuttosto Insomma che conta No? Beh come C'era questo episodio famosissimo anche dei Dei Muse Che erano ospiti a un programma televisivo italiano Che gli hanno detto Guardate voi non suonate Suonerete in playback Allora loro si sono invertiti gli strumenti che suonavano È vero E nessuno si è accorto Perché per far vedere quanto preparati erano allo stesso tempo Beh comunque tornando alla musica che ascoltavamo a 12 anni Io e Marco eravamo alle medie insieme In classe insieme E l'insegnante di musica ha chiesto a ognuno di portare un brano musicale Da far sentire al resto della classe E ogni lezione qualcuno portava una canzone da far sentire a tutti gli altri E doveva anche introdurla, spiegarla un po' Ok Io e Marco abbiamo deciso di portare L'imbizkit E non una qualsiasi dell'imbizkit Hot dog penso Esatto Hot dog La seconda La seconda traccia Che è solo fuck fuck Esatto È una canzone che non dice altro che Si fotta questo, si fotta quell'altro Introdotta come una canzone di protesta Sì esatto esatto No no ma guarda che Abbiamo fatto proprio una Cioè eravamo consci di quello che stavamo portando E beh alle medie sì Nel senso E Per chi non conoscesse la canzone Vi basti sapere che c'è una Una frase all'interno Tra l'altro più o meno a metà Che dice If I say fuck two more times Esatto It's 46 fucks in this fucked up rhyme Quindi almeno 46 fuck Esatto se ne dico un'altra Se dico fuck ancora una volta Ne ho detti già 46 Due volte Two more times Ah esatto E tra l'altro È incredibile perché Non mi ricordo la reazione del professore Quando abbiamo fatto sentire Sì io ho un vago ricordo che fosse rimasto Abbastanza basito Non gli era piaciuta Ah pensavo basito tipo Cazzo mai No 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 Gli avevano fatto schifo Ha tirato fuori Ma del resto scusa Ci insegniamo a suonare Titanic Col flauto dolce Scusa eh Onestamente Sti professori di musica Io dopo un anno con quel professore Sapevo suonare Il primo movimento Dell'autunno di Vivaldi Col flauto No è vero Facevamo la sigla di braccio di ferro No 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 Io mi ricordo sta cosa qua Ma eravate in classe insieme Siete sicuri Forse lui ha fatto il livello avanzato di flauto No comunque Turbo flauto Il Limbiscuit Sono uno di quei gruppi Che sicuramente devo Mettere Nel must Dei gruppi da sentire Perché Cazzo sono veramente Fighi secondo me Anche secondo me Però Li metterei sicuramente Nella mia tecca Di ricordi Perché non è Non è una Cioè è una band che comunque Se li sento Se mi capita Dico oh figata Però è difficile che me li vada A cercare A meno che non mi venga proprio Lo schizzo Però mi piacciono E li vorrei avere appunto lì In una tecca Di ricordi Sì 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 Beh Guarda Essere onesto Io forse non li ascolto da Tre anni Però magari Visto che ne abbiamo parlato Stasera Mi ne ascolto Esatto Mi ascolto tre tre quattro Super volentieri Anche perché sono Si sono un po' Non sono belli No 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 Gli album dopo il terzo Quarto al massimo Sì no ecco Secondo me già Cioè l'ultimo album figo Che hanno fatto Il famoso album Del Del picco Che poi Che precede il declino Ok E appunto Chocolate starfish De hot dog Quello è Esatto Il picco Massimo Sono stati Sono stati dei grandi Che fanno parte Del genere Però c'è tanto questa cosa Di mescolare rap Hip hop E metal pesante Probabilmente Il gruppo La band Che ha avuto più successo Di questo movimento qua Sono stati Linkin Park Certo Ah sì 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 Sicuramente più a livello popolare Sì Poi hanno fatto Cento cose diverse Si sono reinventati Tante volte Però all'inizio Era Era quello No La formula C'era la parte metal Pesante E poi La parte rap Così come anche I corn Facevano parte I corn erano anche Loro super grossi Esponenti Del new metal Anche se Lì era un po' Non c'era una parte Rappata No No era un po' I corn Non credo che si possa dire rap Magari non era neanche Proprio Melodie Cantate a volte Ma No infatti Ma anche gli Slipnot Rientrano nel new metal Sì Quindi in verità Sì perché di fatto Diciamo che credo C'è forse più un discorso di periodo Che non di genere Perché Anche tanto di sonorità però Secondo me Perché comunque Tutti questi Sono caratterizzati anche da Intanto chitarre bassi Anche abbassati Proprio scordati Sì sì di tono Esatto Più bassi Con distorsioni molto forti E che creano proprio dei tappeti sonori Distorti E questo ce l'hanno tutti quanti Sai cos'hanno in comune Una qualche presenza elettronica Tutti quanti Anche È vero Perché Poi vabbè la gente ci fa i meme sopra Sugli Slipnot Dì che metà band era tipo inutile Esatto Però Per chi non lo sapesse C'era pure un DJ Anche se era bello nascosto Quindi sì Magari non ripavano Però c'era comunque un elemento elettronico Cosa che per il metal Diciamo classico Era Tabù Infatti il new metal Mi ricordo che non è che fosse molto apprezzato Cioè l'imbiscuit Questi qua erano visti un po' mali dai metallari Sì esatto esatto Si formavano le due Quelli integralisti Quelli integralisti Esatto In metallari conservatori Sì infatti si formavano un po' le due fazioni Diciamo no Senza senso Come abbiamo detto cento volte Anche perché sbagliavano Clamorosamente Partito preso Anche perché la nostra fazione era migliore Era chiaramente quella giusta Ne bastava una Beh allora Io vi butto lì anche i Rage Against the Machine Madonna Come non metterli anche loro Ecco loro ad esempio mescolano metal e rap e pop Però non so se sono considerabili new metal Cioè la sonorità è diversa Non c'è l'elemento elettronico Non ci sono queste chitarre abbassate Non c'è questo tappeto Anche cupo Di solito queste atmosfere cupano Era un po' meno Mescola i due generi ma in un altro modo Tutti questi gruppi Cioè andavano su MTV Accendevi la tv e c'erano i videoclip Di gruppi new metal Esatto esatto Che per carità E insieme anche a tanto altro Perché Sì Non c'era solo rock e metal C'era tanto hip hop anche su MTV C'era tanto pop C'era tanto pop Cioè volente o non volente Quante volte non abbiamo visto Britney Spears O Christina Aguilera Che erano di solito le due pilastri No? Della musica pop dell'epoca Che bello era che ci fossero Britney Spears E poi ti beccavi il videoclip dei corn Alla settima posizione i corn Al numero 6 Toxic di Britney Spears No ma infatti c'è nel senso Che sicuramente anche là c'erano delle logiche Di commerciali pilotate dalle case di produzione Però appunto c'era uno spettro molto più Sì esatto Ce n'era per tutti Eh infatti Che se uno accendeva la tv Incappava sia in Britney Spears Sì sì ha in Infatti io vorrei parlare Cioè manca sta cosa secondo me Ho notato una cosa Che paradossalmente Marilyn Manson Che è scoppiato in quegli anni L'ha proprio diventato enorme A livello di popolarità Non avrebbe avuto lo stesso impatto oggi Cioè secondo me Gran parte del suo successo È dovuta al fatto Che era l'offerta Per tutti quelli Che non si rispecchiavano Con il pop Super positivo Super patinato Cioè È poi diventato pop Nel senso di popolare Però appunto Era all'altro lato dello spettro Dici che potesse essere Un po' un anello di congiunzione Tra il pop E invece il Il metal Sì o comunque Tutta la gente che A cui non gliene fregava niente Di Britney Spears Diceva Ah figata C'è Il cattivone no? Che piace a me Col nero Tutto quanto L'immaginario super Cupo Macabro Esatto E ripeto Aveva bisogno comunque Che ci fosse la presenza Del suo opposto Insomma no? Quindi Giovavano entrambi Dalla presenza dell'altro Secondo me Mentre oggi Boh Cioè a parte che Vabbè MTV Non esiste più Praticamente Però Un personaggio Super cattivo Diciamo Dici ok Però finisce lì Non so Forse Ci ho pensato troppo Io Non lo so Non si riesce A capire un cazzo Guarda io Marilyn Manson L'ho ascoltato Veramente Poco E anzi Ti direi anche Che Che Non l'ho ascoltato Così tanto Perché Comunque Mi sembrava Che tutto Rotasse intorno A questa immagine Del Dell'artista Maledetto Tormentato Con queste psicosi Al limite Della Dell'accettazione Quindi Ho detto Vabbè dai Lo lascio lì Boh Io L'ho sempre visto Più che Come un Un artista Tormentato L'ho sempre visto Come un personaggio Vero e proprio Cioè Non era Cioè Non era Un musicista Un cantante Era una specie di Villain Diciamo Ah ok Eh no Allora Comunque Niente Cioè Tutto questo Per dire Comunque Che Il La convivenza Insomma Del bianco E del nero Era una figata Cioè Beneficiava tutti Ce n'era per tutti Sì infatti Infatti E tutti guardavano In tv Cacchio Cioè Non ci arrivano Anche loro Che devono vendere Spazi pubblicitari Ma non vorrei Piacere a quanta Più gente possibile Scusa Ma E tu Nicola Cosa ascoltavi Da vicino Allora Io Alle medie Credo Sì anche io ero Sul generis Diciamo All'epoca Così detto Alternativo Che poi ti rendi conto Di quanto sia paradossale Perché poi trovi Sì chiaro C'è la moda Di essere alternativi Quindi alternativo A cosa Comunque Però Mi ricordo che Alle medie Ho avuto il mio primo Assaggino Di Elettronica Perché Appunto Nella mia classe Ero l'unico Che ascoltava Musica alternativa Gli altri Erano tutti Più orientati A musica Tecno Possiamo dire Ah ok Ah sì sì Beh scusa C'erano queste due Macro categorie Chi ascoltava La house La tecno E chi ascoltava Musica fatta a mano Tra virgolette E E un mio compagno Di classe Mi ricordo che Mi faceva ascoltare Delle cose Alcune Mi facevano schifo Alcune dicevo Cioè riconoscevo Che c'erano delle robe Interessanti E Però Tipo Li abbiamo detto Limbischi Li abbiamo detto Rage Against the Machine Io potrei dirti Beh vabbè In verità li abbiamo detto Linkin Park Korn Sleep Note Questi questi Sì erano loro Alla fine Ah cacchio I Gorillaz Madonna Gorillaz Amore a prima vista E Per quanto riguarda I Gorillaz Il me stesso di adesso Andrebbe a dare Un bel pugneto Però lì Erano le medie Almeno per me Ebbè 12 anni Sì 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 Io ho questo ricordo Che quando è uscito Il primo album Dei Gorillaz Omonimo Quell'anno Che era il Ti ricordi Inizio 2000 Comunque Io ero le medie Mi ricordo che Almeno a 3-4 Feste di compleanno Al festeggiato E' stato regalato Quell'album Che bomba Ce l'avevano tutti Che bel giro Era proprio Sulla bocca di tutti Quell'album Mi ricordo che ne parlavano Tutti tantissimo Io mi ricordo di essere Mi ricordo benissimo Quando sono andato A comprarmi Quell'album Del negozio In cui sono entrato Di musica E mi sono guardato Tutte le mie copertine Eccetera E l'album Bianco Con la Jeep Dei Gorillaz L'ho preso su E me lo sono portato A casa Che tra l'altro Pensa che è figata Che la musica Cioè non è una roba Che ascoltano Che ne so Dai 15-16 anni in su Anche i ragazzini Di 12 anni L'ascoltano Anche prima Sì esatto Quindi voglio dire Cioè è un pubblico Veramente È vero Assurdo Sì tra l'altro Il racconto Anche la cosa Di portare un brano A scuola Io l'ho fatta Alle elementari Però E penso che Come tanti Le prime cose Che ascoltiamo Sono quello Che ascoltano I nostri genitori E io mi ricordo Che Una delle mie Cassette preferite Era un album Di Prince E la nostra maestra Ci aveva chiesto La stessa identica cosa Ha detto Portate un brano Poi lo ascolteremo E poi ne parliamo Ovviamente Tarato Per i bambini Delle elementari Non come alle medie E uno dei miei pezzi Preferiti Dell'album Diamonds and Pearls Era Get Off Ok Soltanto che Chiaramente Per chi non conoscesse Prince È molto Sessuale Nelle sue canzoni È pieno di riferimenti Di cose Più o meno Come si dice Esplicite E questa era una canzone Sporchissima Proprio Pesante Però io All'elementare Proprio mi passava Tutto sopra Non avevo visto niente E E ho portato Sta canzone Cioè Un gruppo di bambini Che sentivano Tutte ste cose Sessuali Nessuno che si è reso Conto di niente Però mi ricordo Che mia madre Ha dovuto far Una scelta A un certo punto Ha dovuto dire Glielo lascio portare Perché mia madre È ben conscia Di cosa ci fosse Dentro nel testo E Appunto Glielo Glielo Vieto E gli spiego Perché Oppure Non dico niente E Andrà Va come va E alla fine Mi ha detto Vai porta A quello che vuoi Tra l'altro Questa era Non era l'insegnante D'inglese Immagino No E allora Figurati i ragazzini Cosa capiscono No i ragazzini Niente Però la sua preoccupazione È che dove fosse più Per la maestra Beh ma la maestra Cosa vuoi che Eh non lo so In verità Non ho mai capito Perché probabilmente La maestra ha fatto Un ragionamento simile E hanno detto Aspetta che me ne sto bella Zitta Mi evito tutto un casino E dopo invece 12 anni Quindi in medie Al liceo Siete sbocciati Musicalmente Come i vosti gusti Oppure vi siete Fossilizzati Su quello che già ascoltavate Al liceo c'è stata La parentesi Dream Theater Ok Che come tanti Tanti nostri coetanei A un certo punto Hanno scoperto Sì esatto Questa band E ci sono rimasti sotto Sì ascoltavi Solo Dream Theater E non riuscivi più Ad apprezzare I Green Day I Red Bull Era tutta monnezza Era tutto Perché Devo ascoltare quella roba Era tutto insipido Nessuno sapeva suonare All'improvviso Sì che poi Cioè nel senso Col senno di Col senno di poi Dici cazzo Ma Dream Theater Hanno In realtà Una pecca enorme Secondo me Come band E il cantante Questo lo sapevamo Anche quella volta E proprio Cioè Era talmente assurdo Tutto il resto Sì esatto Che ci passavi sopra Veniva carriato Dalla band Sì Che tra l'altro Secondo me Mike Portman Se n'è andato per quello Ha detto Basta Ha detto John Young Cioè tipo A sociale Non parla con nessuno Petrucci Vabbè Ma cazzo C'è Da bri Come fai Cazzo E ha deciso di concentrarsi Su un nuovo Liquid Tension Experiment Che almeno è strumentale Non vuole più avere a che fare Con cantanti È vero tra l'altro Che è uscito un trailer Che sta tornando Praticamente È già uscito È già uscito È già uscito l'album Sì Boh Sempre lì siamo ragazzi Sì 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 Beh Per chi non lo conoscesse Liquid Tension Experiment È un progetto Di Mike Portman John Petrucci E Tasterista E Jordan Ruddes E Tony Levin Penso sia il bassista Ok quindi finora Tre componenti Dei Dream Theater Tranne il cantante Che sta sui coglioni E il bassista E il bassista Quindi No però I primi due sono fighi E sia Dream Theater Che questo Comunque per chi non li conoscesse Stiamo parlando di Prog Metal Progressive Metal Quindi Turbo virtuoso Virtuosissimo Esatto I virtuosismi sono Punto fondamentale Del genere Direi E Anche Molto musicali Abbastanza Rock Metal Con parti più o meno Pestate Gli assoli di chitarra Non sono musicali Sono semplicemente Guarda quante note Posso fare In un minuto E per quanto tempo Perché poi Notoriamente lunghe Esatto Intervallati da dei 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 bending Che durano E poi di nuovo Vabbè Sì Appunto è un genere Che quando l'abbiamo scoperto Mi ricordo che Non solo noi Ma tantissimi altri Erano rimasti Sì 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 Sconvolti Cosa c'è scritto Su sto tasto? Prog select Appena lo Lo fai partire Parte una solo Velocissimo Esatto Scusa tu ti ricordi Però poi allo stesso tempo A un certo punto A un certo punto basta Siamo rimasti Improvvisamente delusi Subito dopo Tu ti ricordi Il momento in cui hai detto Ma basta Mi ha detto Cioè In cui hai detto Non so se c'è stato Proprio un momento preciso Quando ho conosciuto I Dream Theater Erano ignorante Su Le loro fonti Di ispirazione Ah ok Essermi andato poi ad ascoltare Gli Yes I Rush Meglio i Pink Floyd E tutta un'altra serie Di band progressive Che comunque avevano portato A quel genere lì Mi ha fatto anche Mi ha fatto dire Ah ok Non è che sono arrivati Questi dei Hanno iniziato questa cosa No Hanno preso delle ispirazioni E poi sì A un certo punto Mi sono reso conto che Per quanto Per quanto Alcune cose le apprezzi Tantissimo ancora Me le ascolto qualche volta Volentieri Però c'è tanta E troppa tecnica Sì Io personalmente Ho cambiato proprio Cioè mi ha aiutato a capire Sì esatto A avere una visione diversa Ho notato La bruttezza Di alcuni suoni E ho detto Forse Era meglio curare quelli E avere un po' più di groove Anziché fare E magari anche un po' meno note Andava bene lo stesso D'altronde Less is more No? Bravo Sì Io personalmente Sì È la risposta proprio Perfetta Sì Metterei anche loro Nella teca Cioè Belli Certo Certo Grandi ricordi Però difficilmente Vado a riascoltarmeli Se capita Bomba Nostalgia Canaglia Se capita Oh ma C'è qualcosa che non va Se capita Ok Però Difficilmente Andrò a ripescarmeli Adesso vi sgancio un nome Offspring Eh Gli Offspring Sono uno di quei gruppi Che mi ha fatto conoscere Mia cugina Che è straniera E inglese E mi fa No cazzo Sto gruppo qua Fighissimo E niente Ovviamente Album di Con cui li ho conosciuti Americana Bellissimo Dove c'è Pretty Fly Si chiama il pezzo Sì Sì Poi ce ne sono Beh c'è tantissime altre Super fighe di loro È tutto bello Quella album là Ma Si possono definire Ho avuto l'impressione Ascoltandoli Che c'erano delle sonorità Ska Ah Che fossero Tut 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 Cioè fossero molto Si ci sono alcuni pezzi così Sì 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 È vero è vero Qualcosa hanno Comunque che loro Mescolano abbastanza Perché di base sono un po' Punk Pop Un po' Cioè li butti un po' Dentro la categoria dei Blink Dei Green Day Eccetera Dei primi tempi Però in realtà sono Molto più mescolate Tra l'altro Grupponi che non abbiamo nominato Cioè abbiamo dato per scontato Blink Green Day E Insieme ai Blink Chi è che c'erano Ah i Sam 41 ecco già quelli mi stavano un po' più appunto da sono usciti i Blink e dopo sono usciti anche loro c'erano anche, aspetta, chi è che era palesemente? i San Forteban belli ma sono i Griffin, non sono i Simpson esatto, esatto vediamo se sto gruppo lo conosci ho già le cuffie, vai la indovino con una con una che farsa madonna che era si chiamano P.O.D. ah ok, pensavo, avevo paura mi sparassi una roba molto più anzi strano che non li abbiamo nominati, hanno nomerati nel New Metal è vero tra l'altro Youth of the Nation era la loro, è stato il singolo che li ha spinti in avanti che tra l'altro neanche è uno dei loro migliori pezzi ma vabbè no, neanche secondo me però sai funzionava, era radio friendly vi ricordate, eravamo un po' più grandi cioè avevano aperto questo canale che si chiamava Flux sì, me lo ricordo F-L-U-X e aveva un altro nome o prima o dopo ti ricordi? sì, Flux Flux mi ricordo e c'era un ragazzo dal look un po' indie che che faceva da da VJ sì, tipo da presentatore no, sinceramente non mi ricordo che ci fossero momenti con presentatori questo non me lo ricordo mi ricordo che erano proprio videoclip e allora forse sto facendo confusione però Flux me lo ricordo mi ricordo che c'erano videoclip però di musica un po' più alternativa rispetto a MTV quindi è lì che mi ha fatto conoscere i Queens of the Stone Age e c'era anche, oltre a rock, c'era anche molta elettronica un po' strana era un bel canale e in certi orari oltre a questi videoclip e musica facevano davano dei cortometraggi stranissimi anche quelli molto indipendenti sperimentali era un bel canale peccato che l'abbiano chiuso due robe collegate a MTV che mi fanno una nostalgia infinita sono Celebrity Deathmatch nella quale spesso c'erano i cantanti del momento è vero e Beavis e Butthead che ascoltavano si guardavano dei videoclip oscuri per l'epoca e li commentavano spesso e grandissimi che comunque mettevano il nome del pezzo della band ah sì sì infatti infatti quando li guardavano sì comunque ti facevano ascoltare la canzone sì esatto un pezzetto almeno poi vabbè i commenti di Beavis e Butthead erano quello che erano però se non altro scoprivi musica erano video reaction antelitteral però fatti da dei cartoni animati quelle due robe mi fanno tanta nostalgia beh Celebrity Deathmatch che figata che era madonna cioè stupendo questi pupazzi in stop motion questi pupazzi di Pongo che se le danno di santa ragione e ogni volta tra l'altro erano spettacolari le associazioni che facevano cioè il motivo per cui si scontravano non era mai alcuni erano pochi erano ovvi tipo Christina Aguilera versus Britney Spears per la regina del pop però tante volte era tipo Marilyn Manson contro Charles Manson e allora uno contro l'altro cioè che non c'entravano niente uno con l'altro anche a livello temporale eppure erano sempre scontri assurdi che quindi diventavano anche più interessanti e la metica battuta di chiusura buonanotte e buone botte e sigla metal finale è vero good night and good fight hanno avuto culo a tradurla questa in italiano comunque culo allora secondo me lì erano ancora bravi cioè qualcuno ha fatto bene il suo lavoro secondo me si è messo lì e ci ha pensato è vero beh sempre sulla scia new metal rock pesantissimo cazzo gli incubus che tra l'altro è strano ma è vero che tu l'abbia premesso così perché gli incubus gruppone che si è è diventato molto più morbido madonna col passare degli anni sempre molto fighi sì ma molto più mantenendo quella molto più orecchiabili molto più tranquilli però è vero che il primo album i primi due sono belli e pesantini sono pesanti sono new metal sì bellissimi tra l'altro chissà se loro sono come si può dire hanno alimentato quello stereotipo che col tempo le band si ammotion eh ma i primi album eh ma eh ma beh qualcuno sicuramente avranno deluso però sinceramente sono riusciti a farlo in un modo rispettando sì sì cioè vedi che c'è un percorso in loro non si sono commercializzati secondo me no no sì hanno fatto un loro percorso e rimanendo coerenti al proprio stile hanno cambiato guarda loro secondo me sono veramente uno dei pochissimi gruppi che fino all'ultimo album che hanno fatto mi viene da dire ottimo lavoro bravi perché anche l'ultimo gli ultimi album che hanno fatto cioè sono sono belli magari sono un po' moshi ma cioè moshi non sono prestati ma appunto sono più sono più tranquilli sì 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 sono fatti bene mi ascolto molto volentieri un gruppo che ho riscoperto un paio di anni fa e che girava su MTV quella volta i Dandy Warhols ok quindi beh tutti quanti cioè magari tanti si ricordano la canzone Bohemian Like You ok sì infatti è una di quelle cose è una di quelle cose che hai I like you and I like you and I feel so bohemian like you mi ricordo mi ricordo me li sono andati a riascoltare perché quella volta conoscevo i due pezzi che erano usciti su MTV e devo dire che peccato non averli scoperti riscoperti prima perché gruppone beh ragazzi che bella puntata nostalgica che abbiamo fatto mamma mia sì siamo proprio dei vecchiacci mi sa che vado a togliere un po' di polvere dalla teca dal Walkman dal Walkman va bene allora io faccio una domanda a chi si segue se sapete qual è il collegamento tra un Walkman e una matita tanta stima e scrivetelo nei commenti per chi non lo conosce sono cose di altri tempi mi dispiace ci ho messo un attimo ma ho capito ah è vero anch'io madonna nostalgia pura bei tempi bene adesso andiamo a toglierci le dentiere e e a metterle in acqua e a metterle in acqua e andiamo a giocare a briscola dov'è che ci possono trovare tutti se gli siamo piaciuti su Facebook su Instagram su Youtube dove possono iscriversi al canale e rimanere aggiornati mettendo anche la campanellina classicona e a breve scalpitiamo per esordire anche su Twitch su Twitch stiamo lavorando per noi in verità però dateci un attimo che ci arriviamo ci arriviamo anche là ragazzi è un piacere come sempre ciao ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti